Musica Cari amici di Radio Maria, buona giornata a tutti. Sono le 9 e 5 minuti di giovedì 19 ottobre 2023, pace e gioia a tutti voi cari amici in ascolto e che la luce della parola di Dio guidi i nostri passi nel corso di questa giornata sulla via della verità, del bene e sulla via della pace. Andiamo al nostro programma, la lettura cristiana della cronica della storia e incominciamo con il nostro pensiero spirituale che oggi vorrei dedicare ai tre passi del cammino di conversione. Noi avevo già indicato un primo passo e giustamente qualcuno mi ha invitato a completare questo cammino che di fatto è molto lungo, travagliato però a dei passaggi molto ben precisi che noi viviamo, sperimentiamo e quindi è anche molto importante per la nostra vita personale. Allora, il primo passo nel cammino della conversione è un tocco della grazia, cioè chi è nel peccato mortale non potrebbe mai uscirne fuori da solo, appunto perché nel peccato mortale possiamo dire l'anima è morta e quindi non è in grado di compiere atti soprannaturali, cioè come è quello della conversione. E per cui c'è la grazia preveniente, cioè Dio stesso che chiama la conversione dando una grazia, quella grazia che noi potremmo anche chiamare con il risveglio della coscienza. Noi sappiamo per esempio che Giuda, lo si mandava giù di San Matteo, che Giuda ebbe questa grazia di fare il primo passo che è il risveglio della coscienza e però si fermò lì purtroppo e quindi ci aiuta a capire come sia importante dunque perché la conversione si realizza e si compie di tutte e tre. E il risveglio della coscienza è un dono di Dio, è per quello che la Madonna invita in tante sue apparizioni a pregare per i peccatori. Oggi la Madonna, principalmente il messaggio a Miriana e comunque in quel di Medjugorje preferisce fare accenno a una situazione che comunque abbiamo sotto gli occhi, e quindi pregare per tutti coloro che non hanno sperimentato l'amore di Dio nella loro vita. Questo è un passo della conversione che dipende anche molto dalla nostra preghiera. C'è la preghiera per coloro che non conoscono l'amore di Dio, per coloro che vivono in uno stato di assenza di Dio, di separazione da Dio e per quelli bisogna invocare la grazia della conversione. Dio ovviamente, il Padre dona questa grazia per i meriti di Cristo, della Chiesa, le preghiere di Angeli e dei Santi, però ci sollecita anche la nostra preghiera. Come sappiamo, la Madonna, perfino i bambini, quelli di Fatima, li sollecitava a offrire preghiere e sacrifici per i peccatori. La Madonna, in alcuni messaggi, semplicemente in uno molto drammatico che ha dato, a Međugorje, che quasi le mosinava, chiedeva che ci fossero anime che si unissero a lei a pregare per quelli che non hanno conosciuto l'amore di Dio, perché si risveglino e vivano, perché sono anime morte, che si ammalano e vanno a essere morte spirituali, ha detto la Madonna. E questa è una grande opera di carità. Poi, cari amici, il risveglio della coscienza non è sufficiente. Cioè, il risveglio della coscienza deve essere tale, perché la coscienza comunque è una voce interiore che non si identifica con te. È in te, ma è la voce di Dio. È una voce che ti, come dire, ti rode, ti corrode a volte perché, come dire, ti rendi conto che stai facendo il male, che sei cattivo, che sei lontano da Dio, che sei sulla via della perdizione. Quindi, il risveglio della coscienza porta anche alla consapevolezza di aver peccato. Cioè, Giuda non arrivò a una consapevolezza soprannaturale, però a una certa consapevolezza ha avuta di fatti, come diceva Giuda di San Matteo, si recò dai sacerdoti per restituire i soldi vicendo tradito un innocente. Non c'era ancora... Probabilmente Giuda ha perso la fede, o forse aveva mai creduto, non lo sappiamo, che Gesù era il figlio di Dio, perché questo era quello quanto Gesù ha chiesto ai suoi apostoli e a Cesare di Filippo e fu Pietro quello che, in qualche modo, ha condotto anche tutti gli atti apostoli della fede che a Gesù stava a cuore, che era in Lui il Verbo incarnato e che era presente a loro, insomma, sia pure attraverso la mediazione della natura umana del Signore. Allora, in questo primo passo della conversione c'è anche la consapevolezza del peccato, che è molto importante, anche perché oggi, come dire, la coscienza del peccato ha bisogno della grazia, cioè senza la grazia tu non riesci a identificare il peccato per quello che veramente è, c'è un veleno che ti distrugge. Cioè il peccato, ci dice il catechismo, è un'offesa fatta a Dio, quindi è attraverso Dio, è un'offesa fatta a Dio, molte volte ovviamente lo si fa al prossimo, ma in ultima istanza il peccato è sempre un'offesa fatta a Dio, è una disobbedienza alla legge di Dio, una mancanza di amore, un tradimento dall'amore, insomma. Tutti noi sappiamo, a meno che non si sia offuscata o addirittura cancellata la coscienza, se noi ci raccogliamo che non facevamo il male, abbiamo un rimorso. Cioè il rimorso della coscienza è un'esperienza esistenziale immediata che l'hanno tutti, a meno che uno non sia arrivato allo stato della perversione, dell'indurrimento del cuore. Quindi nel primo passo della conversione c'è la presa di coscienza di essere un peccatore. Come noi sappiamo il profeta Davide, grazie anche a Davide, il re Davide, grazie anche al profeta Nathan che inviò Dio per scuoterlo, quando si rese conto che quello che aveva fatto, cioè un omicidio, un adulterio, era cosa grave agli occhi di Dio, lui l'aveva già liquidata Davide e invece il profeta gli ha risvegliato la coscienza e allora lui ha avuto consapevolezza del fatto di un peccato grave. Per cui poi ha composto quel salmo, dal profondo grido a te o Signore, se ora ascolta la mia voce. Questo è il primo passo della conversione, cari amici. Il rispetto della coscienza è la consapevolezza del proprio peccato. Quello che è male ho peccato contro di te, quello che è male ai tuoi occhi l'ho fatto. Ammettere umilmente di essere peccatore. Questa è una prospettiva che si ripete in ogni pagina della Bibbia, dalla prima all'ultima pagina della Bibbia. D'altra parte è Cristo che è venuto per espiare i nostri peccati al nostro posto per il nostro amore sulla croce. Il secondo passo della conversione, cari amici, dipende sia dalla grazia sia da noi. C'è anche il risveglio della coscienza, anche la consapevolezza del peccato richiede una nostra corrispondenza, ma soprattutto l'iniziativa della grazia che ci illumina. Il secondo passo della conversione è la decisione di cambiare vita. Certamente anche per questa decisione abbiamo bisogno della grazia. Abbiamo bisogno che il nostro libero arbitrio sia sostenuto dalla grazia di Dio. Ma però è comunque un atto che noi dobbiamo fare senza il quale noi Dio non può decidere al nostro posto. E per quello che la Madonna in un suo messaggio ha detto io nella mia umiltà mi inginocchio davanti alla vostra libertà e vi supplico convertitevi. Cioè Dio non può decidere al nostro posto. Quindi il secondo passo della conversione è fondamentale, cioè è arrivare. C'è un lavorio nel cuore, qui c'è un lavorio nel cuore man mano, come dire, fortificare, man mano metterà a fuoco la consapevolezza del peccato e man mano, proprio guardando il peccato nella sua malizia che è una mancanza d'amore, un rifiuto dell'amore di Dio, un'offesa fatta a Dio e anche un male per noi stessi. In questo modo, crescendo nella consapevolezza, come dire, si arringa il libero arbitrio, lo si fortifica finché non si arriva la decisione. Chi di voi si è convertito sa benissimo di cosa sto parlando. Quando l'ha descritto magnificamente Manzoni nella conversione dell'innominato e lui aveva passato il travaglio del rischio della coscienza per tutta la notte, però poi alla fine ha deciso di andare a trovare il caderno a Federico Borromeo da qua si è confessato. Quindi c'è un lavorio per cui bisogna decidere di cambiare vita e, come dire, nutrire, fortificare questa decisione con la preghiera, con la considerazione della croce, dell'amore di Dio, anche delle conseguenze del peccato col quale noi distruggiamo la nostra vita e ci mettiamo nelle mani del maligno e nella perdizione eterna. Quindi anche questo, anche la considerazione degli effetti del peccato che ci merita l'inferno, peccato grave, lui ci catechismo della Chiesa Cattolica, un peccato mortale, se non ci si è pentiti, ci porta all'inferno perché è un colpo di accetta che taglia, un colpo di forbice, quelle forbici grosse che taglia il ramo, che taglia il tralcio dalla vite e poi secca. La decisione, cari amici, bisogna farla maturare e deve arrivare una decisione radicata in noi, cioè veramente una decisione di cambiare vita, questo è fondamentale, questo passaggio, in modo tale che una volta che sei deciso è una decisione irrevocabile, non voglio peccare mai più, non voglio peccare mai più. Poi, cari amici, l'ultimo passo della conversione, che a questo punto diventa facile perché c'è già stato il dono dei peccati, c'è stato il proponimento, c'è la decisione, arriva la confessione dei peccati e qui qualsiasi sacerdote che compie il suo ministero è deputato ad accoglierti nelle sue braccia e ascoltarti, ascoltare la tua confessione, il tuo pentimento, il tuo dolore e nel medesimo tempo il tuo proposito e allora in nome di Cristo ti assolve dai peccati e in quel momento le catene del peccato sono spezzate, in quel momento tu ridiventi vivo, ridiventi figlio di Dio, diventi una nuova creatura, sei abilitato a ricevere l'eucarestia e se dovessi morire in quel momento lì sei nell'ambito della salvezza eterna. Poi ovviamente ci sono sempre delle cose, delle scorie del male di cui purificarsi o lo si fa in questa vita o lo si fa in purgatorio, però anche in purgatorio come sappiamo un ambito di salvezza, però la Madonna ci ha raccomandato di andare subito in baradiso, di tutto per andare in baradiso perché comunque nel purgatorio c'è la gioia di essere salvati ma anche una grande sofferenza di essere lontani, non poter Dio faccia a faccia mentre sei in purgatorio. Bene, questi cari amici sono i tre passi del cammino di conversione che sono tutti chiaramente nella saga scrittura, nel Nuovo Testamento ovviamente c'è la confessione però non c'è la confessione, c'è la confessione insomma, c'è dei convertiti che si battono il petto e pieno, anche l'Antico Testamento e questi sono i passaggi che senza delle quali non c'è la vita cristiana, cioè quando la Madonna e Chico chiamano la conversione, non fa che ripetere quello che Dio aveva già iniziato quando chiamò Adamo, che aveva peccato, Adamo dove sei? Da allora, da allora dice una cosa, in cominciato l'allontanamento da Dio, il ritorno è fatto di queste tre tappe, cioè il risveglio della coscienza, la consapevolezza del peccato, il pentimento, la decisione, secondo passo, di cambiare vita, quello che viene chiamato il proposito e poi la fine, la confessione sacramentale, la gioia del perdono e l'inizio di una vita nuova. Vi auguro a tutti i gremici di fare questo percorso, anche perché molti sollecita, entrare nel tempo della prova già pronti per poterlo affrontare perché se siamo legati dal peccato rischiamo di essere travolti a causa della nostra debolezza. Questo dunque era il pensiero di oggi, cari amici, adesso cadiamoci nella storia che cerchiamo di leggere nella luce soprannaturale. Vi dico le mie impressioni, cioè Satana sta giocando sporco. Satana sta giocando sporco e io credo che la giornata di preghiera che abbiamo fatto abbia in qualche modo impedito l'irreparabile che poteva accadere e che potrebbe accadere. è giocando sporco anche con il nostro aiuto, però insomma ci è mancato poco che potesse esplodere, diciamo così, una violenza, una guerra che sarebbe diventata inarrestabile. D'altra parte Putin si è recato da Xi Jinping con le valigie nucleari in mano e si è fatto pure fotografare, quindi questo ti dice tanto. Dunque cari amici, poi grazie a lui ci sono anche la politica, ci sono state anche persone responsabili, ci sono state da fare, alcuni visibili, altri visibili, però insomma per il momento la situazione è molto grave ma non è ancora domenabile. Cioè in pratica cos'è successo? Sono successi due fatti gravissimi. il primo è stato l'attacco di Hamas a Israele che è stato, dopo la Shoah dicono gli stessi israeliani, anzi sono il fatto più grave che aveva vissuto Israele nel corso di questi decenni. Il secondo fatto è stato l'esplosione all'ospedale di Gaza. Qui mi permetto di fare una mia riflessione perché ormai le cose sono chiare, cioè le cose sono chiare, cioè in pratica è stata data la notizia che Israele avrebbe bombardato l'ospedale di Gaza provocando 500 morti. Questa notizia diffusa nel mondo arabo potete immaginare in tutto il mondo arabo e in tutto il mondo musulmano perché i musulmani non sono solo arabi, gli iraniani non sono arabi ma solo sono musulmani. Così pure molti in Africa sono musulmani ma non sono arabi. Così pure in tutto il Medio Oriente, paesi messi come l'Indonesia o il Pakistan sono musulmani ma non sono arabi. Quindi non è solo il mondo arabo, è il mondo musulmano in generale che è entrato in effibrillazione ovviamente per una cosa che sarebbe un evento inaccettabile di una gravità inaudita come quello di bombardare un ospedale con così tanti morti. Israele ha subito smentito ma ormai la notizia che ha dato Hamas che era stato un bombardamento israeliano volontario quindi che ha fatto 500 morti era diventata una verità inconfruttabile per tutta la comunicazione dei paesi diciamo arabi e musulmani insomma e invece invece più il tempo passa più si si vede che è stata è stata un incidente possiamo dire è stato un incidente poi non è non è da cioè Israele se le cose le fa poi le giustifica pure ma ha detto subito che non l'ha fatto e io ho letto su diversi giornali ma poi è chiaro che vi ho detto ieri quando ho letto ieri quando ci sono queste cose bisogna sempre chiedersi a chi giovano una cosa del genere non poteva giocare a Israele di sicuro quindi allora questo fatto ha creato e sta creando una situazione ed una pericolosità incredibile per cui io ritengo che la giornata di preghiera che abbiamo fatto è servita a dio per impedire l'irreparabile che poteva accadere poi ovviamente non so se ci sarà un momento in cui diciamo così ci sarà una considerazione anche da parte comunque della politica degli altri paesi specialmente quelli che sostengono la causa palestinese che è comunque la causa con le sue ragioni di essere in ogni caso e non va confusa con Hamas però io spero che man mano si renda conto di quello che è successo cioè è successo un incidente cioè in pratica è un razzo di Hamas ha colpito l'ospedale e secondo qualche fonte i morti sarebbero fra i 10 e i 50 forse saranno anche di più perché poi ha creato un incendio ma di fatto si tratta di un razzo di quelli costruiti da Hamas che di cui una percentuale del 10-20% hanno dei difetti che non vanno molto lontano e quindi cadono poi sul medesimo terreno ora Israele ritiene di essere in grado di dimostrare che questo è avvenuto quindi però la versione Israele ha bombardato con 500 morti è una versione scusate che stava per provocare un finimonto e invece era una fake news era una cosa inventata ora per carità mi rendo conto che non è come 2 più 2 fa 4 però sostenere che si è trattato di un incidente cioè di un razzo che non ha funzionato bene e poi ci vorremmo ancora cominciare in casa che ha certi morti perché a quanto pare c'è chi sostiene e sono persone del posto che erano lì sul posto che i morti sono molto di meno sono molto di meno alcuni parli dai 10 ai 50 perciò andiamoci piano ecco allora per prima cosa volevo leggervi questo ci sono diversi articoli c'è uno di Repubblica fatto molto bene però stavolta mi è piaciuto anche molto quello del Corriere il Davide Frattini qui si tratta di non privilegiare questo o quel giornale perché comunque i giornali di un certo livello stanno attenti a non contare fronte se no perdono credibilità internazionale ovviamente si tratta di sapere chi ha notizie più come dire più fondate insomma ecco allora vi leggo questo articolo di Davide Frattini che ricostruisce molto molto bene questo fatto che ha rischiato di creare un incendio mondiale e sta rischiando anzi ancora poi ovviamente c'è da urassi che c'è qualcuno che comincia a ragionare non soffia sul fuoco allora il titolo è cosa è successo all'ospedale all'Ali di Gaza i rottami, l'incidio e le voci l'Israele ha registrato alcune voci dei jihadisti che fra di loro parlando hanno detto è stato un missile della Jihad comunque vediamo tutto l'articolo anche l'intelligence sursa propende per l'incidente interno cioè all'interno di Gaza una fonte dei servizi europei afferma cioè una voce dei servizi europei che i morti sono forse fra i 10 e i 50 quindi e siamo in una fase di accertamento di fatti poi è chiaro che se uno non ci vuole credere è un'altra cosa l'esplosione è avvenuta nel cortile dell'ospedale Alali costruito nel 1882 della diocese episcopale di Gerusalemme nel quale si sono rifugiati centinaia di civili non sta nella parte della striscia che l'esercito ha dichiarato a zona più o meno sicura cioè quelle aree verso cui da una settimana spinge a spostarsi gli abitanti del nord la clinica però almeno a sud alle 9 del mattino il viceammiraglio Daniel Agari portavoce delle forze armate riunisce i giornalisti internazionali per illustrare la ricostruzione israeliana di quelle che è successo 13 ore prima alle 18.59 di martedì una striscia di fuoco nei primi video diffusi da casa che arrossa il buio Hamas ha subito accusato il nemico di un massacro i fondamentalisti intervengono al posto del Ministero della Sanità considerata la fonte ufficiale e denuncia 500 morti cifra molto ridimensionata da una fonte dei servizi segreti di un paese europeo pare che sia la Francia è molto probabile che siano fra i 50 fra i 10 e i 50 dice l'agenzia France Press non sappiamo chi sia questo paese europeo però ha comunicato la cifra secondo questo servizio segreto a un'agenzia francese France Press nei filmati appassi sui canali digitali si sente il fisco di un proiettile in arrivo fendere l'aria poi lo scopio la televisione Al Jazeera di proprietà del Qatar diffonde la ripresa di una telecamera fissa in cui si vede un razzo lanciato da dentro il territorio palestinese che esplode in aria e si fionda giù all'indietro in una scia di fiamme pochi secondi dopo sullo sfondo compare i flash la televisione Al Jazeera una quindi araba che ha rimandato in onda un filmato una ripresa ad una telecamera fissa in cui si vede un razzo da dietro il territorio palestinese quindi da dove Hamas lanciava i razzi che esplode in aria e si fionda giù all'indietro in una scia di fiamme e pochi secondi dopo sullo sfondo compare il flash dalla detonazione un analista consultato dalla televisione britannica BBC commenta l'incendio sembra generato dal carburante di un razzo più che da un ordigno vediamo adesso il dialogo che i servizi diciamo così i servizi segreti israeli hanno intercettato e chiaramente lì tutti i telefoni dove tutto è registrato poi uno dice uno dei giaiisti dice cosa? la prima reazione non è una domanda è stupore e incredulità dicono che appartenga alla giada islamica risponde l'altra voce in arabo è nostro l'altro risponde sembra proprio di sì chi lo dice? il resto corrisponde a un razzo locale non israeliano ma il nome del cielo dice l'altro non poteva trovare un altro posto per esplodere a parlare chi sono? a parlare sarebbero due comandanti di Hamas intercettati dall'intelligence militare Agari cioè questo diciamo così responsabile israeliano dell'esercito ha reso pubblica questa conversazione mentre il mondo arabo la gente nelle strade i leader nei palazzi del potere continua a ritenere israeli responsabile insomma sono reazioni emotive però poi è chiaro che almeno i leader nei palazzi del potere potrebbero cominciare a ragionare ieri mattina con la luce del giorno i palestinesi hanno rilanciato le immagini del piazzale colpito il danno materiale maggiore visibile sono le auto bruciate non si scorgono crateri di grandi dimensioni la maggior parte dei palazzi attorno sembra intatta qualche finestra in frantumi tengono le rovesciate sul tetto di un edificio a un piano rispetto a una devastazione che dovrebbe causare un misere israeliano se è stato il razzo della sciata islamica a fare da miccia potrebbe aver centrato un deposito di combustibile o si trattava di un'arma più potente con più propellente nei serbatoi le vittime sopravvissute presentano i sedi di ustioni il volto annerito dal fumo nero dei combustibili quindi diciamo il razzo che è caduto che è caduto prima di arrivare al suo obiettivo ma sono sono almeno più del 10% i razzi che cadono prima questo l'abbiamo detto ieri ha colpito un probabilmente ha colpito un deposito di combustibile i boss della sciata islamica alla faccia più legata all'iran dentro la gaza ripetono dicono l'angolo dell'impatto e l'intensità del fuoco dimostrano che si è trattato di un attacco dall'aria Ozan Naoum il vescovo anglicano di Gerusalemme dice che l'ospedale aveva ricevuto nei giorni scorsi almeno tre ordini di evacuazione ma che il personale medico non aveva voluto andarsene ammette non siamo esperti militari chiediamo solo che la gente veda quello che sta succedendo ne abbiamo abbastanza di questa guerra l'esercito israeliano dichiara di aver individuato 450 casi di razzi ripiombati dentro la striscia in queste quasi due settimane è successo anche in altri conflitti tra lo stato ebraico e Hamas anche perché sono razzi costruiti in modo artigianale da Hamas durante i due mesi di scontro fra luglio agosto del 2014 nove bambini erano stati ammazzati mentre giocavano in un parchetto vicino al campo dei rifugiati sciatti la spiaggia poche minuti dopo la strage miliziani con le passamontagne a nero erano apparsi avevano avvolto i resti dei proietti in un telo e l'avevano portato via hanno voluto nascondere la prova sostenevano i testimoni locali che fossero stati loro quindi questo è un evento che ha accaduto fra il luglio e l'agosto del 2014 un razzo di Hamas era capito sulla spiaggia uccidendo nove bambini e subito i miliziani sono arrivati e hanno portato via i resti in un telo e hanno voluto dice la gente locale nascondere che fossero stati loro anche l'intelligenza americana scrive il New York Times propende per l'ipotesi un disastroso incidente interno precisando che si tratta di conclusioni preliminari gli analisti avrebbero utilizzato i rilevamenti dei satelliti dotati di sensori infrarossi che raccoglono migliaia di dati in diretta lo stesso sistema aveva fornito le prove che l'aereo della Malisia Airlines in volo sopra l'Ucraina nel 2014 era stato abbattuto da un missile di fabbricazione russa nella battaglia digitale delle versioni la ricostruzione israeliana è contestata via social non tanto nei dettagli ma viene messa in discussione la credibilità dei portavoci militari ricordando che l'uccisione di Shirin Abu Akwell la giornalista di Arjazeera morta durante la battaglia da Jenin inciso da nell'undicimando scorso l'inchiesta interna aveva impiegato quattro mesi per ammettere di creare le porte poteva essere stata colpita accidentemente dai soldati anche se non è possibile determinare in modo iniquivocabile l'origine degli spari insomma questa dunque è per il momento l'ipotesi diciamo l'ipotesi che ha una sua ragion d'essere perché a Israele non conviene una cosa del genere ovviamente quindi tantomeno credo che neanche Hamas nessun avventimento poter lanciare un missile sull'ospedale quindi alla fine l'ipotesi l'ipotesi di un incidente di un raggio difettoso è quella che si sta facendo largo ma intanto l'opinione pubblica diciamo araba prima di tutto poi in genere dell'Islam è ancora fermo anche quello che ha detto Hamas che c'è caduto l'ospedale è stato bombardato dagli israeliani che hanno provocato 500 morti e invece poi mette l'arribilità un'altra che il raggio è caduto perché era difettoso ha colpito un deposito di carburame ha sollevato fiamme che hanno in parte investito l'ospedale per quanto riguarda i morti ovviamente ci vorrebbe essere un'inchiesta a mio parere però se dei servizi segreti di un paese europeo che è abbastanza neutrale in questa situazione ha detto che i morti sarebbero da 10 ai 50 quindi questo andava chiarito questo andava chiarito caravigli perché se no come vedete il diavolo gioca spudoratamente la carta del tanto peggio tanto meglio però in questi casi ci dovrebbe essere una moderazione una moderazione un po' da tutte le parti specialmente di quelli che sono che hanno in mano la politica devono stare molto attenti e invece si lasciano prendere dalla come dire dall'emozione o anche sui momenti popolari insomma credo che la preghiera abbia fatto molto dunque la politica sta facendo un lavoro di questo genere quando parlo di politica parlo di chi volete che parli parlo dell'america perché in questo momento qui l'america sta facendo politica poi l'europa non si vede e e i due gli altri due gli aspiranti valutori del mondo Putin e Xi Jinping si sono incontrati devo dire che la fine si è mosse in un modo a mio parere abbastanza responsabile insomma Putin ha bisogno dell'Iran quindi non è che possa fare a meno dell'Iran e dei suoi droni in questo momento quindi c'è un asse comunque Bosca Teheran e Hamas fuori discussione e Putin è andato a trovare Xi Jinping però Xi Jinping ha rinnovato l'alleanza la fiducia nella Russia però non ha più detto senza limiti come ha detto l'altra volta cioè la Cina è alleata dalla Russia però evidentemente in Cina non tutti la pensano come Xi Jinping e c'è una pressione nei suoi confronti a badare di più agli interessi della Cina soprattutto in parole povere che è diventata quella che è diventata grazie all'Occidente la Cina quindi anche adesso ne ha bisogno ne ha bisogno ha bisogno anche del mercato dell'Occidente la Cina per cui si muove con più prudenza e a mio parere con più responsabilità e Bechino si muove con più responsabilità di Mosca in questo momento ecco poi andare a all'incontro probabilmente anche in altri casi portava la valigetta ma si è fatto fotografare lui tutto il seguito con le varie valigette come per dire siamo pronti a a fare che cosa? a distruggere il mondo? non lo so fate voi chi si è mosso a mio parere con moderazione è stato Biden il quale ovviamente era fuori discussione che a Israele è un sostegno forte in questo momento e che desse all'Iran un ammonimento ben preciso dicendo non muovetevi non fate attacchi perché se no risponderemo ha mandato due navi cioè due portaerei insomma che sono sempre comunque una minaccia più che rispettabile e nel medesimo tempo nel medesimo tempo come dire ha tenuto conto di una di una soluzione politica cioè è chiaro che adesso è chiaro che adesso è dato per scontato che comunque Israele non tollererà più a massa i propri confini quindi ci sarà una 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 caccia all'uomo a Gaza una caccia a Damas quindi sarà una cosa lunghissima durerà anche qualche settimana non so forse anche di più perché questo Israele non ammetterà più di avere una una minaccia del genere fuori casa che può fare rifare quello che ha fatto anche peggio ma nel medesimo tempo separata diciamo la sorte di Hamas da quella dei palestinesi e occorre dare e occorre che Israele scompri la striscia di Gaza e ci sia una soluzione politica per i palestinesi e quindi qui entra in campo la Cisdodania con la Boumasen occorre una comunque una rappresentanza araba a gestire Gaza in modo tale che si ritorni quando appunto i confini fra Israele e Gaza erano la gente andava e veniva tranquillamente quelli di Gaza lavoravano in Israele e quelli di Gaza andavano a prendere il caffè sulla spiaggia di Gaza per così dire quindi e Biden aveva un incontro programmato ad Amman c'era capitata della Giordania con il re con la Giordania con la Boumasen insomma rappresentanti dei palestinesi dei due parole poveri e non c'è stato comunque ha proposto ha stanziato anche un aiuto umanitario ai palestinesi di 100 milioni e insomma sta creando Biden sta creando i presupposti per un futuro una futura gestione di Gaza senza Hamas e quindi in prospettiva la possibilità che Giordania e Gaza possono diventare la prospettiva bisogna sempre chiaro uno stato palestinese che riconosca Israele e ci sia un rapporto di buon vicinato come c'era prima che avvenisse Hamas detto in parole povere quindi certo che anche il presidente deve moderarsi deve come ha detto ha detto ha invitato Biden ha detto capisco il vostro dolore però anche adesso è il momento di guardare avanti insomma di trovare soluzioni concrete e possibili quindi questa questa opzione ha bisogno di essere sostenuta dalla preghiera cioè questa è una soluzione politica a mio parere più che che su cui bisogna lavorare sono i palestinesi sono non possono essere identificati con Hamas fra i palestinesi sono anche dei cristiani non bisogna dimenticare anche dei cattolici quindi e occorre come dire lavorare seriamente e dare delle prospettive noi preghiamo perché questa linea prevalga e questa è anche una linea che comunque sta sostenendo l'occidente in questo momento che ha nessuna voglia di inimicarsi il mondo musulmano insomma con cui ci sono tanti rapporti e quindi diciamo cioè che cosa si vuol fare con una guerra similare orrore morte fame distruzione perché cosa il papa cerca di far ragionare ha detto la guerra si perde tutto è una via è la via del diavolo è la via del diavolo quindi noi continuiamo a pregare credo che la preghiera che abbia fatto sia molto importante nel medesimo tempo il papa il santo padre ci ha proposto io adesso vi ho riassunto poi tutto quello che ho detto ho correlato ho correlato di articoli che vi ho messi su sito internet che vi approfondiscono i vari passaggi che ho fatto parlando a voce parlando direttamente diciamo però questo qui lo devo leggere perché è importante almeno un pezzo cioè il santo padre è intervenuto molto con la preghiera e con consigli e con senza facendo sentire la sua vicinanza esortando a prendere la via del negoziato e ha indetto dopo un'iniziativa di Pizzavala che è stata molto apprezzata tutta la chiesa l'abbiamo fatta anche noi questa preghiera questa giornata di preghiera e digiuno però Francesco indice per il 27 ottobre cari amici una giornata di preghiera e digiuno per la pace attenzione che coinvoca tutti i cristiani cioè cattolici portodossi e protestanti una giornata di preghiera e digiuno per la pace invitando anche i fedeli di altre chiese religioni anche altre religioni già un'iniziativa del genere della presa San Giovanni Paolo II dall'udienza generale alla Madonna è contenta anche la Madonna io ho notato che la Madonna non disprezza le preghiere delle altre religioni sa che la loro la loro luce è limitata ma però lei ha detto c'è del buono anche nelle preghiere di altre religioni insomma quindi giustamente la chiesa invita anche le altre religioni a pregare ognuno secondo la sua fede dall'udienza generale l'appello a evitare una catastrofe umanitaria a Gaza timore per il possibile allargamento del conflitto e adesso a mio parere ci saranno pure le settimane difficili perché ovviamente Israele non non rinuncerà a battere militarmente Gaza e bisogna vedere qual è la reazione dell'Iran quindi è possibile l'arriamento del conflitto quindi ma noi insistiamo con la preghiera vediamo un po' che a che livello siamo questo l'ho già detto anche oggi ha detto il Papa i fedeli riuniti in piazza San Pietro il pensiero va a Israele cioè ieri che c'era l'udienza generale e in Palestina le vittime ha detto aumentano e la situazione a Gaza è disperata si faccia per favore tutto il possibile per evitare una catastrofe umanitaria ma ciò che più di tutti inquieta il pontevice è il possibile allargamento del conflitto mentre nel mondo tanti fronti belli ci sono già aperti tacciano le armi implorato il Papa si ascolta il griot di pace dei popoli della gente dei bambini fratelli e sorelle ha proseguito dunque la guerra non risolve alcun problema semina solo morti e distruzione aumenta l'odio e moltiplica la vendetta la guerra cancella il futuro di cui la già ricordata esaltazione i credenti a prendere in questo conflitto la sola parte possibile quella della pace e non solamente a parole ma con la preghiera e la reddizione totale bene carissimi questo dunque era il Santo Padre adesso anche noi stiamo arrivando verso la fine e però prima di arrivare a Brog una notizia piacevole da darvi piacevole perché sono quelle notizie che mi fa piacere insomma dunque mi è arrivata una una lettera che che preannuncia diciamo così per Radio Maria e anche per me un premio particolare il premio internazionale cristianità di San Bernardo di Cravo che viene dato a me e a Radio Maria o a Radio Maria a me per il costante impegno profuso nell'ambito della comunicazione evangelica religiosa sociale e per la solidarietà contro ogni forma di violenza riconoscendo in lei cioè sottoscritto anche in campo umanitario religioso e culturale si tratta del premio che viene dato da alcuni anni già è un cuore d'oro di San Bernardo è stato il premio internazionale cristianità di San Bernardo di Chiara Valle è una realtà istituita dall'Accadema delle Culture e delle Scienze Internazionali in collaborazione con la Confederazione Internazionale dei poveri cavalieri di Cristo di San Bernardo di Chiara Valle e allora questo dunque è un riconoscimento che viene dato da domani viene dato a sottoscritto e credo che mi faccia piacere a tutti noi d'altra parte di prima l'abbiamo ricevuto di tanti anche un Caterinino d'oro a Siena anche un Ambrugino d'oro a Milano poi abbiamo metto le cuffie d'oro in una gara fra tutte le radio diciamo nazionali italiane insomma abbiamo collegato un sacco di premi anche questo bellissimo premio che mi fa molto piacere allora cari amici la consegna del premio si svolgerà nel corso dell'incontro internazionale per la pace che si terrà sabato 21 ottobre quindi dopodomani alle ore 10 e 30 presso la sala auditorium dell'hotel casa tra noi in via di monte del gallo 113 a Siena ecco questo dunque è la lettera che mi ha dedicato generale dell'associazione di questa accademia che il dottor massimo maria ci vale e allora ovviamente la premiazione è aperta al pubblico avviene appunto avviene appunto sabato 21 ottobre dalle 10 e 30 alle alle a mezzogiorno ci sono non ci sono premiato soli ci sono anche altre personalità anche in passato sono stati premiati dei vescovi sono persone di certo rilievo allora si però si può partecipare insomma si può essere presenti e sabato 21 ottobre alle 11 e 30 presso la sala auditorium dell'hotel casa tra noi via monte del gallo 113 a Roma poi nel pomeriggio ci sarà la santa messa per chi vuole partecipare ovviamente c'è anche il pranzo però bisogna prenotarsi c'è la santa messa perché vuole partecipare a santa messa poi anche il giorno dopo ci saranno i partecipanti insomma simpatizzanti i vari ci saranno presenti in piazza san pietro per l'angelo del papa dunque ora io ho messo questa lettera l'abbiamo pubblicata sul mio blog così potete vedere leggerla tutta è molto molto dettagliata insomma spiega bene tutto che cos'è anche questa accademia la commissione che ha dato i premi che ha come presidente onorario e sua eminenza reverendissima il cardinale José Aiva Martins e poi gli orari che vi ho detto dal 10.30 a mezzogiorno presso l'hotel casa fra noi via monte del Gallo in Teotrice Roma dunque questa lettera la trovate sul mio blog la trovate anche sul nostro sito internet potete chiedere spiegazioni potete chiedere spiegazioni e diciamo e telefonando all'ufficio di formazioni adesso siamo arrivati al blog a Remisi mi è arrivata una lettera molto interessante di un certo Gino che racconta la sua crisi di fede in questo momento dove non solo come persona con i suoi problemi ma anche come da punto di vista proprio generale lui sembra quasi dice che noi preghiamo ma sembra che il cielo non ci ascolti sembra che il cielo sia assente sono crisi che potrebbero che ci sono cari amici sono crisi che potrebbero nel tempo dei segreti noi ci diciamo perché Dio permette queste cose cari amici allora vi invito a leggere questa lettera che è molto interessante perché sono domande che molti si pongono perché Dio permette queste cose perché non ci ascolta perché sembra assente e vedete anche la mia risposta che vi esalta a guardarvi e da queste da queste insidie del maligno che cerca di mettervi contro Dio bisogna essere molto vigilanti allora chi vuol leggere la lettera e legge anche la mia risposta oppure vuol dare lui la sua risposta mi fa piacere che pubblico sempre quelle più meritevoli e vada sul blog blog di padre Livio.it se sceglie google oppure se sceglie il sito a domani.it in alto c'è l'icona del blog con questo programma terminato ringrazio di cuore tutti quelli che con sacrifici e generosità sostengono da Maria Maria la sua grande missione che sta compiendo al servizio della chiesa al servizio dell'umanità al servizio della regina della pace vi do l'appuntamento fra qualche minuto e proseguiremo con il nostro bellissimo libro apposto di Maria a fra poco grazie a tutti